Ciao a tutti, è bello vedervi qui, funziona? Buona, sì, funziona. Puoi sentire o sentite solo la mia voce alta e spiritura in andata? Sì, alziamo un po' dal master anche. Allora, intanto io faccio il saluto, quindi anche se ancora non è alto bene, mi sentite lo stesso. Buonasera a tutti, a nome delle librerie Petrinelli vi diamo il primo minuto, vi ringraziamo di essere qui questa sera. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Manuel Castro, che con questo... Che con questo suo album dal titolo L'età del consenso festeggia i 14 anni di carriera, quindi è il suo greatest things. Insieme a lui a parlarci di questo lavoro, questa sera c'è Roberto Lecchioni, che è un artista. Questa sera è una serata un po' particolare alle 19, infatti per qualche minuto interromperemo la presentazione. Partirà il wazzat del piatto padre, vi invitiamo a ballare con noi per ricordare tutti insieme l'India Petrinelli, la regina dei libri che ieri è venuta a mancare. Grazie. Grazie. Allora, va bene, mentre... c'è credo una regia, credo, c'è proprio una sala regia mi sembra di capire. Dicevo allora, grazie a tutti per essere venuti, nonostante la calura, grazie per l'attesa, anche io pensavo iniziassi alle 18, però ce l'abbiamo fatta. Ma vi chiedo scusa perché io di solito metto le lenti a contatto, però oggi non me la sento e mi vedrete con gli occhiali. In realtà, da quel che vedo, tutti i maschi in prima fila hanno gli occhiali, quindi se me lo permettete li metto anch'io. Va bene? Non giudicatemi, voi sapete che io di solito non li porto. Ok. Ti immaginiamo senza. È importante per me, grazie. D'ora, io ti immagino nudo sempre. Ma perché quando ci siamo conosciuti contesto era quello. In realtà, voglio davvero ringraziarti per essere venuto, innanzitutto perché tu odi questa città, non è vero, non è vero. È un artista, ma un intellettuale, voglio dire, che stimo moltissimo e che si presti, francamente, per... Chi? Esatto. Come è successo un po' a Luca Comis. Quindi, veramente, lo apprezzo tanto, so che sarà un talk interessante. Vai veramente a ruota libera, sicuramente l'Ufficio Stampa ti ha imboccato, ma segui il tuo cuore. Mi ha imboccato. Esatto. In maniera anche aggressiva. Però la prima cosa che mi interessa dire è perché sono qui, perché io sono un fan, fan quasi della primissima ora, mi sono innamorato del tuo lavoro con Escort 25, cioè, ma sono letteralmente polminato, poi sono andato indietro e tra quel momento ti ho iniziato a seguire. Quindi questo disco a me è importante perché il punto, cioè, in questo album sembra che tu dici, ok, questo è il punto che Manuel Castro fino a qui, è anche un modo per dire, Manuel Castro fino a qui, se mi conoscete, riascolterete tutta una serie di pezzi che hanno fatto la mia storia, in una versione nuova, in una versione ripensata e forse ancora più tanziericcia per molti, rispetto a quanto la nostra di parte vedi, ma a me sembra anche un modo per dire, se non mi conoscete e vi siete persi tutta una serie dei miei passaggi, questo è il disco dal cui cominciare. Mi racconti come nasce, date il consenso. A cominciare dal titolo, vi prego. Esattamente, l'idea giusta, il volume in realtà è rimasto lo stesso, direi che è la promessa di alzarla con la flex, però ci crediamo, in realtà adesso mi salto il mio altro. Sì, esattamente, è una raccolta ma è anche così, non fare un punto a campo, nel senso che, ormai è un bel po' di tempo che faccio quello che faccio, la data è il 2004, indicata come inizio, quindi sono 14 anni rispetto ad oggi. La mia discografia non è facilissima da identificare, infatti su Wikipedia ci sono state diverse controversie, perché fondamentalmente il primo pezzo uscito in vendita in realtà è nel 2019, Touché. Però io già prima avevo iniziato ad avere un ruolo fondante nel bel cantautorato italiano, con Anna Albeez, 50 bocca 100 amore, o ancora... Io la do, io la do, è del 2005, quando... È stato il primo pezzo che hanno, ad esempio, trasmesso in radio, era una trasmissione, insomma, demenziale. Ricordo che un amico mi chiamò e dicendo ma guarda che su Radio DJ stanno passando la tua canzone, dicendo che bel fa... Sì, però ti stanno prendendo per il culo. No, questo lo deciderà la storia. No, stavano effettivamente prendendo per il culo. Però anche prima, perché i primi esperimenti fatti, ed è buffo, perché adesso li definisco esperimenti, ma la prima visibilità che ho iniziato ad avere attorno proprio al 2004 è stata per questi uomini che adesso ci fanno anche sorridere, se no addirittura straniare però. I primi articoli dedicati a me parlavano del fatto che io avessi aperto un blog con degli MP3 streaming. Ah, wow, ma guardia pura! All'epoca sì, all'epoca sì. Di fatto io quando ho iniziato, l'unico prototipo di social network era MySpace. Fate conto che poi in realtà è praticamente scomparso. Secondo me che c'è qualcuno che non l'ha mai visto. Eh, può essere, magari l'hanno giusto sentito parlare. E col tempo poi, come dire, poi spero di non andare fuori tema, ma secondo me in realtà è proprio quello che volevi chiedere. O fingi che fosse così. Cos'è successo? Per me è nato tutto come un gioco. Ma credo che lo sappia anche tu. È una componente importante dell'arte, dell'intrattenimento, quella del gioco. E il gioco, per essere tale, deve essere inutile. L'arte in questo senso deve avere una componente di funzione. E questo aspetto è rimasto. Ho continuato a giocare, semplicemente a un certo punto ho deciso di giocare duro. Molto duro. E ho deciso gradualmente di mettere un po' di persona nel personaggio. Ecco, credo si possa dire dei miei inizi che facevo qualcosa che adesso è molto comune, ma che all'epoca lo era meno. Parlo di quella serietà non raggiunta, di quell'effetto, ma lo sta dicendo davvero, dove se magari altre tende storiche che definite quegli artiche, demenziali, dove l'intento era dichiarato, nel mio caso, volete per l'estrema bellezza della pubblicazione estetica, che creava questo pacchetto con questo effetto straniante, ci si chiedeva ma è serio o no? C'è o ci fa? Di fatto, esattamente, di fatto era una sorta di troll. In questo senso... Trolla c'è come provocazione, tu hai sempre provocazione, esattamente, esattamente. È sempre provocazione fortissima, poi è stato uno strumento importante. Esattamente, esattamente. Direi che forse sono stato una sorta di troll antelittera, in questo senso. A un certo punto, invece, ho iniziato a... non a prendermi più sul serio, ma a prendere più sul serio quello che stavo facendo e forse anche le potenzialità di quello che stavo facendo anche in relazione a chi mi segue e in realtà è dal 2015. Mi dimentico sempre in campo sono io. Tra l'altro, tipo, imparo la mia età un anno dopo aver compiuto gli anni. Cosa che è venuta quattro giorni fa se volete farmi gli auguri, grazie. Auguri, grazie. Ma sempre stavano 23 anni, non ti sembrano sta roba? Mi servono. Esatto. E dicevo è dal 2015, dall'uscita in realtà dell'ultimo album, perché poi è sempre così, è quando finisce la pressione che la creatività esplode. Che sto scrivendo un sacco di materiale inedito e ora, presto per dirlo, ma spero di pubblicarlo l'anno prossimo, sto sperimentando una direzione diversa. Prima avevo piacere di fare il punto con questo disco e di chiuderlo con due inediti quali Good by Milano e Piromane che per certi versi rappresenta un po' proprio non so come dire, la suma del mio stile e del mio intento. Ok, questo è un po' per rispondere al senso di questo disco. E' un po' del consenso perché guarda, in realtà la prima volta che trovo questa definizione nonostante questa domanda me l'abbiano fatto tutti perché è estremamente banale, no, perfettamente sensata, perché adesso sono consapevole di quello che sto facendo. prima era puro piacere. Senti, ma a margine hai iniziato come hai detto nel 2004, hai fatto 23 anni quindi hai iniziato a 10 anni che non sono adattere 10 anni che sono lavorate e complimenti che volevo contattere. Sembravi più grande nei primi video. Vedi? Eh, capisci ma sai, queste esperienze ti fanno crescere in fretta. Hai toccato all'argomento interessante cioè della provocazione e la cosa buffa è che oggi il trolling cioè il provocare sembra quasi inutile perché le istituzioni dicono cose così aberranti che tutto lo guardi e sembra che forse essere ragionevoli e parlare in maniera ragionevole sia diventata l'unica forma di provocazione possibile. Tu nei tuoi testi hai sempre affrontato i discorsi sessuali il discorso del sesso legato al 360 gradi cioè abbiamo un alfabeto dell'amore che ho seguito da la alla zeta come ti trovi oggi nella polne in questa Italia in cui abbiamo un nuovo ministro della famiglia che dice eh questo è vero no allora guarda in realtà è uno spunto veramente interessante perché mi trovo spesso nella condizione di sentirmi dire cose che mi lucendo moltissimo rattristandomi anche che sono una delle poche persone che a livello di approccio e di comunicazione effettivamente cerca di fare comunicazione cerca di far passare un messaggio da A a B in maniera costruttiva ed è paradossale se si pensa al fatto che la mia Viltorschauung artistica è incentrata proprio sulla provocazione il fatto è che sono due canali la provocazione è molto bella e funziona molto bene nell'arte per smuovere per rompere per attirare l'attenzione però una volta che la persona è stata tirata al tavolo lì non puoi comunicare quella provocazione lì c'è un altro atteggiamento e alla fine le domande da fare sono sempre e solo due di che cosa è paura di che cosa è bisogno sono veramente poche in realtà le persone che attivamente diciamo un'espressione un po' naif cercano di peggiorare il mondo le persone che lo fanno sono persone che generalmente non riescono a vedere al di là dei propri bisogni al di là delle proprie paure per tutta la loro vita generalmente sono queste le due questioni e questo discorso si risolverà in non posso soddisfare i tuoi bisogni e le tue paure sono infondate nella maggior parte dei casi ed è proprio così ed è proprio così con una frase un pochino self-containing mi viene da dire che il problema quando si supera la decenza che poi non c'è più nessuna decenza e quindi veramente tutti possono dire tutto esistono solo slogan migliori di altri e di quel che conta è la potenza di fuoco nel pronunciare quegli slogan sentiamo tuttora dire la rete è libera la rete in ambito artistico ha fornito una nuova meritocrazia io stesso l'ho detto per tanti tanti anni perché io di fatto nasco in quel modo adesso non è più vero semplicemente la rete che si era inizialmente svincolata da quel tipo di interesse da quel tipo di potere adesso invece lo contiene espresso in maniera diversa cioè se qualcuno interessa possiamo entrare sull'aspetto tecnico di come funzionano i live di come funzionano le visualizzazioni e senza entrare assolutamente in nulla di occulto sono tutte cose perfettamente legali tuttavia nel momento in cui si hanno una determinata quantità di follower un contratto con una determinata agenzia piuttosto che un'agenzia di comunicazione che segue certe dinamiche c'è modo di influenzare ovviamente il modo in cui una notizia arriva rispetto ad un'altra c'è adesso possiamo entrare nel dettaglio ma siccome abbiamo usato una cosa da dire sai la cosa interessante è che tu essendo un programma digitale come artista i meccanismi anche io mi capita io l'ho usata tantissimo e l'abbiamo usata tantissimo insieme spesso però hai attenzione che siano le istituzioni il governo che si ha il passaggio delle informazioni che si ha la gestione delle notizie vedendo i trucchi o vedendo i meccanismi non ti ha la voglia certe volte di uscirne da quel meccanismo cioè uscire dai network uscire dai social capisco l'impulso infatti massimo rispetto per chi lo fa è che in un certo senso il terreno di gioco adesso è lì quindi fare un po' fatica ad uscirne però la vedo come una situazione momentanea momentanea che durerà anni probabilmente decine di anni però la prima volta nella storia che l'umanità ha a che fare con i social network quindi è comprensibile che non fossimo preparate le repercussioni che questi avrebbero avuto all'inizio ci sono trovati di fronte a una possibilità immensa quella che l'informazione fosse svincolata dagli interessi delle istituzioni però di tutte queste possibilità tendono a realizzarsi le peggiori e alla fine a me interessa sempre il futuro sarà che sono un gamer ma mi interessa sempre pensare a dieci turni da adesso e uno dei modi più importanti per giocare in senso buono con il futuro è l'istruzione l'educazione ci sarà un futuro in cui noi spiegheremo come utilizzare i social network spiegheremo il concetto di verifica delle notizie spiegheremo che se una notizia non ha una fonte è falsa non forse vera è falsa questa deve essere una forma mentis poi nel caso dovesse essere una smentita ne riparliamo oppure ci sono tutta una serie di norme comportamentali e le leggi ma anche poi morali di decenza che regolano la realtà chiamiamo invece il suo ossia realtà virtuale eh no adesso è diventata un'estensione della realtà la realtà influenzano se tutti i giorni proprio così proprio così è una sciocchezza ma deseggio quando si parla di spoiler che lui ovviamente io ce l'ho terribilmente a morte perché cioè tu spoiler proprio vuol dire rovinare letteralmente perché devi rovinare la bellezza proprio odio questi rovinatori di bellezza cioè gli spoileratori antiliterano erano gli stronzi che fuori dai cinema raccontavano quelli in coda alla fine del film ma io sono nazista su questa cosa ma in senso opposto cioè tu sei un cultore dello spoiler il finale non conta il racconto quindi puoi raccontarmi il finale di qualsiasi opera poi l'opera in sé io la provisco al di pari del colpo di scena sono d'accordo nel fatto nel non identificare l'intero valore dell'opera con il finale ma è importante anche con l'accento drammaturgico ok detto questo la risposta è vabbè se tu non hai modo di scaricare illegalmente Game of Thrones la mattina non collegarti ai social per un giorno a parte questa logica come dire uno viene qua alla Feltrinelli si ruba un libro si fa un selfie bello complimenti no la risposta è non andare no serve come dire non andare in strada nel mio caso non andare al lavoro perché lavoro ovviamente con i social quindi sono un luogo e è assurdo che queste regole che queste norme non ci siano che questa autorità non ci siano ad esempio Facebook non dico dovrebbe avere un ufficio in ogni città ma quasi di customer service cioè tra un po' alla dogana accettano i login con Facebook ha un impatto enorme tuttavia non esiste customer service c'è il mio segreto lo sappiamo io e te io e te ci lavoriamo io e te abbiamo costantemente problemi l'unico modo è veramente passare per via occulta avere l'amico che lavora a Facebook letteralmente che ti dice non dire a nessuno che lavora a Facebook è una cosa incredibile incredibile e poi allora io chiaramente faccio sponsorizzate perché ormai è l'unico modo per quanto riguarda la mia attività artistica per quanto riguarda l'attività ludica e sebbene certi titoli siano anche dei top seller in Italia rispetto al giro d'affari che certi multinazionali o comunque certi clienti possono portare a Facebook il mio irrilevante vale a dire che all'inizio si veniva segnalata un'illustrazione vecchia di tre anni dove si vedeva un capezzolo chiudevano la pagina e gettavano le chiavi perché rinunciare a quei tot di migliaia di euro è comunque vantaggioso rispetto all'impelagarsi in una possibile controversia vabbè adesso invece che c'è un dialogo la cosa si può risolvere comunque è allucinante oppure pensiamo al concetto di segnalazione ci sono questioni estremamente delicate dovremmo entrare nel merito della correttezza politica però no facciamolo un attimo molto molto brevemente per correttezza politica intendiamo quell'insieme di accorgimenti di norme di atteggiamenti atti a tutelare la sensibilità delle altre persone in particolare delle minoranze io ho fatto della scoerentezza politica nella mia carriera ora mi trovo a difendere la correttezza politica incredibile ma in realtà perché io non difendo la correttezza politica di per sé difendo il principio a tutela dalla quale è stata istituita perché quando viene fatto presente al conduttore radiofonico che si lancia in obiettive omofobe che è pericoloso che sta facendo male delle persone e ti risponde basta con questa correttezza politica basta con il pudisco esatto non è che lui stia criticando la regola critica il principio ossia la torrenanza ossia il rispetto la regola la posso criticare anch'io la regola non ha valore di per sé può essere giusta sbagliata come la legge che andrà a proteggere la giustizia la giustizia è un ideale per la legge sappiamo benissimo che può essere perfettibile allo stesso modo la regola è questa parola non si dice la regola la capiscono tutti ovviamente può piacere o non piacere può fregarne o non fregarne ma la capiscono non tutti capiscono il principio a tutela dal quale la regola è stata istituita ti faccio un altro esempio legato all'immagine che a maggior ragione tu capirai bene in realtà il mio background professionale più lungo cioè che vai dietro più nel tempo è legato alla grafica all'immagine e appena ho iniziato ormai tanti anni fa a lavorare in un'agenzia io cercavo delle regole no? ok questa cosa si fa così questa cosa si fa così tira borighe eccetera mi dissero tu hai occhio fidati del tuo occhio perché la gente non è che andrà a vedere un manifesto con il righello lo vedrà con l'occhio ci sono tutta una serie di questioni legate alla percezione quindi se magari c'è un colore da un lato piuttosto che dall'altro io vorrò spostare otticamente un elemento per avere una composizione armonica il principio quindi è l'estetica la composizione armonica la regola dovrebbe andare a tutelarlo succedeva quindi che mandavo al cliente un lavoro e il cliente magari un po' peccato tracciava una riga dicendo eh la scritta però non è centrata succede quindi che pur di tutelare la regola sacrifica volentieri il principio perché il principio non lo capisce perché non ha o talento o preparazione per comprenderlo la regola sì tiri una riga al centro deve essere tutto centrato stesso avviene con la correttezza politica e ora arrivo alla questione in realtà che interessa a noi appunto una parola non si può dire sono d'accordo ci sono parole spregevoli perché? perché danneggiano danneggiano qualcuno danneggiano una comunità danneggiano una causa a volte però li si usa a favore di quella causa facendo quella cosa importantissima che è autoironia è una cosa fondamentale ma proprio per stare bene con noi stessi si dice finché non puoi ridere di un problema non puoi risolverlo io lo vi do con me tutt'ora ci sono aspetti che di me stesso non mi piacciono e che quando sento derisi è così che è andata falsa che puoi sembrare che dirò esattamente esattamente perché vuoi sorridere perché vuoi far vedere che sei in grado di ridere e non c'entra la sensualità nel mio caso però insomma abbiamo tutte queste questioni come appunto che grande sarà il froscio una questione complessa come quella che vi ho appena spiegato ora sembra facile ma perché è stata la parola che Facebook ti banna di botta froscio proprio lì questa questione non può essere affidata ad un algoritmo che applica se stessa in maniera bovina serve sensibilità umana a meno finché non verrà sviluppata una I che abbia tale sensibilità io sono stato bannato per aver riportato un dialogo di volume dal gioco perché c'era la parola negro e tu guardi cioè ci sarà un modo per il conto poi se puoi parlare con Facebook ti dicono che in realtà non è un algoritmo ma sono persona scusate è un algoritmo non lo so conosco persone che digiunano che non l'uomo allora dipende a che livello arriva la segnalazione 99 su 100 la lingua mi basta no no io ho segnalato robe gente sconzata non vincita la professione poi c'entra pure il meccanismo che è la visione americana di che cosa sia corretto di che cosa possa essere rappresentato comunque Roberto io ce l'ho è la prima volta che lo dico un giorno faranno un titolo scusami un film sulle nostre vite sulle nostre generazioni il titolo sarà belli e bannati è vero quante volte dovranno fanno tantissimo e quante volte ma vedete che sono belli a proposito di le grandi serie crocevo che a proposito di bellezza è diventato un himno il genere nazionale la tua prima hai parlato del futuro poi la cazzone è stata amata tantissimo dai ragazzini ci sono identificati tantissimo credo sia uno dei due pezzi che ci ha avuto il maggior successo corretto come ti senti aver creato un himno che per quanto tu abbia 23 anni poi sei rivolto a più giovani che cazzo sta dicendo menti con le sciomenti a chi è questo allora grande orgoglio quale parola migliore prendiamo poi una parola sul concetto di orgoglio mi è uscita da sola e poi è pride esatto allora orgoglio soprattutto in italiano è una doppia accezione anche una negativa perché si dice l'orgoglio fa tanti danni e questo è vero però quando si parla d'orgoglio legato a queste questioni non è in quel senso lì non è l'orgoglio di avere una determinata caratteristica perché appunto questa argomentazione poi si smonta con l'argomentazione fallata e vabbè è come essere orgogliosi e avere gli occhi azzurri ma poi via anche senso però no non è quella è una sciocchetta l'orgoglio non è riferito alla condizione congenita ma al percorso di accettazione fatto alla rivendicazione del proprio posto del mondo è quello l'orgoglio in questo senso torniamo a Da grande Sarai Crocio canzone sì che amo molto è tra le mie preferite tra quelle anche che preferisco cantare è stata molto apprezzata percepita anche forse in maniera più seria di come l'avessi scritta io nel senso l'aspetto profondo c'era ma a me colpiva di più quello ridanciano invece no proprio tante persone si sono commosse e tante persone mi scrivono ancora oggi ringraziandomi per quel pezzo direi che c'entra proprio quel diritto all'autoironia di cui parlavo prima quello sdrammatizzare c'è anche chi non ha apprezzato il prezzo il prezzo va bene il pezzo all'interno della comunità e ancora qui torniamo al discorso del politicamente corretto e torniamo al discorso anzi andiamo al discorso delle persone che maggiormente mi hanno causato di spiacere non diciamo problemi verrebbe da dire vabbè saranno gli tolleranti saranno i bigotti nì perché a loro la correttezza politica non interessa anzi loro sono ben contenti non sai che comunque il tipo di critica che ti è rivenata da quella parte esatto te lo aspetti perfettamente prevedibile no le persone che mi hanno causato più sofferenza e problemi sono persone che condividono le mie visioni progressiste persone che come dice di tutte le altre evoluzioni veramente vogliono cambiare il mondo il meglio solamente che per limiti debolezza tutte le certe questioni non capiscono che cambiare il mondo come intendono loro è possibile perché loro per cambiare il mondo intendono cambiare gli altri il cambiare gli altri è impossibile è molto difficile e c'è solo un modo di ispirare quel cambiamento e lo si fa cambiando se stessi ma è un'operazione difficilissima dura tutta una vita e richiede un insieme di risorse che semplicemente non tutti hanno quindi non è neanche giusto giudicare chi non ci riesce però cosa succede che queste persone così ben motivate che sono femministe sono attivisti LGBT che però non riescono a cambiare la realtà perché non sono in grado di cambiare loro stessi cercano di cambiare la funzione cercano di cambiare l'arte quella è facile da cambiare un pochino la città è sicura palma rimosso non ci vuole niente sono loro i fanatici del politicamente corretto e sono loro quelli che mi hanno deluso di più perché in realtà sono le persone a cui vorrei parlare certo perché invece che interpretarti appunto con quel meccanismo dell'ironia in cui capire è quello che fai di spesso al contrario che il senso delle dimensioni è esattamente all'opposto è sempre io ho continui scontri con le frage più estremiste del femminismo del femminismo che scrive con la X e il gender e a me fa ridere perché io sono esattamente un femministo un femministo radicato basta vedere poi la mia narrazione e quando ti trovi con quelle cose te li trovi a fare le battaglie con persone che la pensi come loro è terribile immagino che sia problematico non avere il consenso appunto delle persone che per cui tu sei dotato in prima linea sempre mettendoci la faccia e peccandote anche la maggior parte degli schiavi esattamente così generalmente io vivo abbastanza bene nel senso che sebbene sia considerato un provocatore e a buona ragione non lo sono cioè per me la provocazione è uno strumento io vi giuro vi giuro su tutto ciò di più caro di quei miei gatti che conto in banca che mai mi sono seduto pensando ok faccio questa cosa per dare testito qualcuno cioè non è proprio il mio modo di relazionarmi al mondo io dico faccio questa cosa perché qualcuno dirà ovviamente qualcuno l'ha detto qualcuno che può dirlo l'ha detto non mi faccio problemi a scandalizzare i ben pensanti ma non è il mio fine a me non interessa quindi avendo questa prospettiva sono queste le persone a riguardo sono queste le persone che ascolto e alla fine sarà un attore d'avorio che vi devo dire ma si vive meglio c'è nell'ambito delle cose che mi spiace vedere riguardo a questo è una tendenza che si manifesta soprattutto in un ambito progressista ma in generale allora ogni volta all'interno di un'associazione a livello di un paese all'interno di un movimento quando la leadership fallisce la prima reazione è il separatismo ok tipo no senti organizziamoci tramite che stiamo meglio che però in realtà è fallimentare in partenza e questo questo pensiero si insidia moltissimo anche all'interno del movimento LGBT ma proprio sai no transessuali omosessuali maschi omosessuali donne ed è veramente un peccato perché è vero che ognuno conosce solo le proprie esigenze infatti si vorrà un rappresentante per quella categoria che conosca quelle esigenze tuttavia la lotta è la stessa ed è a quell'ideologia che pretende di stabilire quale sia l'unico modo giusto di essere e quale invece vada umiliato privato dei suoi diritti e ucciso e questa è la lotta della stessa per tutti ed è una lotta che possono capire tutti è una lotta che può capire benissimo anche il maschio bianco eterosessuale che è la categoria dominante e infatti io dico sempre che i più grandi alleati della comunità lgbt sono gli eterosessuali perché sono molti di più detengono praticamente tutte le posizioni di potere e sono perfettamente in grado di capire esattamente come se il merito di tutte le lotte delle femministe va a quelle donne che hanno lottato è anche vero che in quel momento il potere c'erano dagli uomini che hanno capito che stavano sbagliando il merito di quelle donne ma un ruolo l'hanno giocato anche loro la lotta non va fatta alle persone va fatta a quell'idea marcia di cui ho parlato prima e vedere persone che anziché avermi come alleato in questa lotta l'unica che ha importanza cercano di coinvolgere le scaramucce che non faranno la differenza nella vita di nessuno mi offende veramente mi tiro fuori il sadismo questo devo dire sentando di parlare così seriamente stavo pensando a una delle impeccate del tuo ufficio stampa che mi ha detto devi chiedervi questo la domanda però che mi ha fatto secondo me è superata del tempo la domanda riguardava la discrepanza tra l'immanuel casto personaggio pubblico raccontato attraverso le canzoni i testi i concerti e tutto e poi il tuo essere invece una persona piuttosto schiva piuttosto appartata molto posata in realtà mi sembra superare i tempi perché l'immanuel casto che sta uscendo sempre di più mi sembra sempre più coerente con quello che poi ho conosciuto in privato nel senso mi sembra il più riflessivo negli ultimi anni mi sembra che l'attenzione sui testi io non mi sorprende che molte persone hanno preso molto più in serio De Grande Trafrocio perché De Grande Trafrocio è una persona che va rigliere ma ha quella leggerezza profonda che ti permette di produire una cosa che però poi ti porta al messaggio profondo quindi è solo la mia percezione che i tuoi immanuel cominciano a sincronizzarsi o ancora come una volta cioè che abbiamo due universi molto separati no sicuramente non è una tua percezione nel senso che è vero immagino ci vorrà tempo perché questa percezione si estenda ma è anche necessario il tempo la stima e il rispetto si costruiscono non si pretendono il giorno in cui uno si sveglia con la voce grossa e dice da oggi mi prendete sul serio è il giorno in cui iniziano a prendere per il culo è un processo è un processo e bisogna far quello che si definisce un long game è qualcosa sapendo che ne raccoglierai tutti nel tempo ed è importante mentalmente vivere in quel tempo in cui è già successo faccio questa cosa non so un caffone semplicemente perché sappiamo esatto che tra tra pochi minuti esatto esatto devo fare quella pausa quindi non vogliamo iniziare un discorso che poi sarei dovuto andare ad interrompere sai guarda le tante cose che vorrei dirti ti dirò solo questa ci sono tanti fraintendimenti secondo me culturali uno dei più gravi è proprio sull'idea di forza se ne abbiamo tempo magari poi la riprendiamo però marginalmente anche la differenza tra insicurezza e vulnerabilità per me l'insicurezza è l'assenza di una struttura portante che regga il buscio la vulnerabilità è l'assenza del buscio ed è necessario essere vulnerabili se si vuole comunicare perché tutto ciò che il buscio previene in entrata blocca anche in uscita l'unico modo per parlare al cuore delle persone è esporre il proprio e se c'è qualcuno non c'è non sei e chi pensa a me appunto come un provocatore come uno stronzo evidentemente ho una responsabilità evidentemente ero insicuro e pensavo che fosse meglio apparire stronzo che vulnerabile la cultura me l'ha suggerito e io sono stato abbastanza stupido da Greg mi sa che ci hanno spento perché ho sentito l'avete sentita l'ultima parte si percara no 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 senti vogliamo fermarci adesso o continuare perché ho paura che ci bloccano a metà adesso non saprei no non vi blocchiamo a metà che arriviamo all'essente noi dobbiamo far partire ok va bene allora se vuoi dire qualcosa poco no più che altro una cosa di cui non si parla mai perché poi il tuo personaggio è così strappolodante su tutto quello che rappresenti che mi parli di musica qual è il percorso musicale di questo album dove ti ha portato pensi che io capisca qualcosa di un'altra allora allora naturalmente ho fatto il mio percorso musicale io sebbene sia nato con un personaggio e un'idea di comunicazione uno stile di comunicazione la qualità musicale in realtà è arrivata soprattutto grazie a Akin che è più presente che tu conosci biblicamente passate insieme tantissime tantissime notti in camera in hotel è vero vabbè troppo è vero sì no va quello però avete fatto quello che avete dovuto no più che altro perché è un brutto uomo grazie ti vorrò comunque sempre bene allora a livello di gusti io nasco dal pop ma che era anche necessario per il mio progetto di comunicazione perché questo effetto di straniamento lo si poteva avere solo con il pop perché con il canto autorato più classico con il death metal con il punk siamo già abituati ad avere messaggi di rottura ma sentire un messaggio di rottura con una pinola musicalità pop perlomeno in italia o perlomeno nella nostra epoca sono stato uno dei primi a farlo in realtà non so come dire raccolgo una grossa eredità che è quella degli anni 80-70 dove lì di esempi ne arrivava dammi una lenta che mi taglio le vene però è un pezzo pop si trova un video del festival bar dove credo Vasco Rossi presenta Joe Squillo che canta violentami sul metro è un gran mezzo ma è meraviglioso ma è un piccolo allora te lo immagini ad essere non lo so tipo ad amici di Menefilippi presenta il suo inedito violento io subito oppure lo so sì sì esatto anche lì oppure dammi una lenta che mi taglio le vene coprano nel serpente si gira si snoda no si gira si snoda si girano in chioda si gira si gira si gira si gira Renato Zero Rai piena domenica piena domenica è una cosa che pensi oggi incredibile dice oggi cosa farebbe Renato Zero eh dal Papa dal Papa a salutare quello è quella che ha invecchiato ma che c'entra? si nasce c'è di Aro si muore Pompinaro è anche nato Pompinaro te lo so allora saloniamo tantissimo Renato si lo stimo tantissimo come artiste come autore e questo ci mette un po' di tristezza no? perché parliamo del prosupposto che ci sia stato del progresso e invece c'è stata un'evoluzione c'è stata una crescita del moralismo il moralismo la mia definizione come distingo il moralismo dal senso morale ciò che è giusto e ciò che è sbagliato semplicemente il moralismo ci dice cosa si può dire cosa non si può dire mi trova un po' difficile parlare di qualcosa se non se ne può parlare mi sa che la regia mi sa che la regia ti dice anche perché sono le sette spaccate ma che indietro per via non si va da morire la prima volta ho incontrato città giusta per farti questa domanda una delle caratteristiche di moltissimi artisti che stiamo in questo periodo di questa generazione di artisti che stiamo in questa periodo è sembrare dei uomini rinascimentali cioè non fate una cosa e basta ma tu sei un cantante cantautore sei un creatore di giochi tra l'altro di grosso successo di giochi di tavola hai fatto ti muovi tantissimi anni sei comunicato sui social hai tantissime attività diverse che rappresentano una specie di manuale di customer sei fatto il fumettista fai il fumettista Squillo tornando ai giochi che non è gioco da tavola è gioco di carta è stato un successo mondiale e è un'azionale come funziona? cioè com'è che non ti si è perso un limite hai detto ok sono un cantante mi concentro su questa cosa invece ti sei mosso a tantissimi livelli diversi allora non è che sia nato in è stato un processo necessariamente intenzionale però queste sono sempre state le mie passioni allora quando mi chiedono cos'è la cosa che ami di più al mondo io vorrei rispondere in inglese to play che si applica a tantissime cose to play a song to play an instrument e in recitazione to play a roll una commedia uno spettacolo è chiamato to play ovviamente giocare to play manipolare qualcuno to play someone su questo no però tutte le cose che mi piacciono di più è che si esprimono proprio in quell'ambiente di funzione sana che è l'arte ma sai allora piccolissima divagazione sul mondo del gioco ora non mi ricordo contestato ad aprile avevo tenuto una conferenza nell'ambito del mensa a Pavia sulla creazione dei giochi che si chiamava regole per creare le regole ossia in cui fondamentalmente mi interrogavo sull'esistenza di norme e accorgimenti che possono in qualche modo aiutare a creare un gioco che funziona dato che è più facile dimostrare le cose in negativo ho elencato quelli che sono considerati degli errori che notoriamente ai gamer come sono io adesso non piacciono ora vi dico gli aspetti un po' più interessanti in un gioco non piace quando non c'è possibilità di scelta quello è fondamentale non servono tantissime scelte possono anche essere due tipo un gioco come Love Letters molti lo conosceranno avete due carte in mano ne scegliete una però quella scelta deve essere determinante è quella che rende bello il gioco ma in realtà è quella che rende bello tutto nella vita cioè anche una condizione notoriamente dolorosa come la solitudine è molto bella se è una scelta è brutta quando è imposta potrei fare un sacco di esempi a riguardo ad esempio un gioco molto famoso in cui non c'è possibilità di scelta in pratica è Monopoly l'unica a comprare o non comprare ma comprare è sempre la scelta giusta oppure un'alta incisione della fortuna è mortificante fare delle scelte e poi tiri un dado e tutto si risolve non la snobbo completamente la fortuna perché meno incide la fortuna e più aumentiamo il divario tra giocatori esperti e non esperti quindi anche un suo perché però non deve essere preponderante di nuovo un gioco in cui la fortuna incide molto è Monopoly oppure che i giocatori abbiano una speranza di riprendersi vale a dire che il giocatore batte molto al tavolo che verso anche al dado verso la fine anche se stai perdendo ci deve essere una speranza una speranza la possibilità in un miracolo si chiama di stop all effects per all'esplosiva molti nomi è un tifetto molto brutto di nuovo in Monopoly c'è potrei fare in questa conferenza in realtà era poi una gag ricorrente perché leghavo tipo 12 caratteristiche in Monopoly che è gioco più medione uno dei giochi che mi ha detto se non è più in tutto il mondo ma potrebbe è uno dei un successo mondiale vabbè ci sono anche delle ragioni storiche ma questo in realtà per poi andare a parlare di Squid in che senso Squid è un gioco che ho creato senza essere ancora un gamer infatti a livello di dinamica a livello di scelta è molto particolare è un gioco di rottura mi rendo conto adesso ma tu sai benissimo che un sacco di opere di debutto in moltissimi ambiti artistici c'è anche scrittura musica di artisti che ancora non avevano una preparazione tecnica realizzano delle mezze botte di genio proprio perché rompono delle regole dato che non le conoscevano è più difficile romperle quando poi le conosci e quello soprattutto il primo c'è sicuramente un'alta incisione della fortuna c'è di nuovo soprattutto nei primi capitoli una dinamica di snowball effect se un giocatore si ritrova con un dispiegamento di escort che sembra di essere a Porto Cervo nel 2009 ormai è data ma forse mi ha visto così e morale perché però perché ci sono dei giochi che hanno che violano queste regole e funzionano e ci si diverte perché l'aspetto preponderante è quello emotivo emotivo nella finzione sapete qual è l'aspetto più importante per un gamer lasciato magari perdere altri partiti in più sbarazzini che va a decretare la bellezza di un gioco la tensione voi vi state divertendo se siete tesi se non siete tesi non vi state divertendo la tensione è uno stato che invece odiamo nella vita oppure il tradimento la vendetta tutte cose deprecabili che invece nel gioco si esprimono ma nel gioco ma nell'arte in generale e in questo senso musica arte e gioco non sono così separati poi se dovessi andare allora io ho così tanti talenti che rendarli è difficile ma se dovessi edificarli due ti direi l'intelligenza logica e la sensibilità artistica sì perché peraltro mezzo a scuola e di che sei un membro del mezzo ma che carino ma allora in realtà il gioco è uno di quei pochi ambiti in cui creatività e logica si incontrano molto bene l'altro è la musica perché c'è molta matematica ora nello specifico quell'aspetto lì l'aspetto matematico non lo seguo io nella musica mi occupo solo dell'aspetto creativo però come dicevo questa dimensione sana della finzione che diventa una palestra delle emozioni c'è in entrambi gli ambiti quindi mi sento a mio agio in entrambi gli ambiti poi a livello di mio modo di essere non so come dire vivo meglio come gamer che su un palcoscenico che per me è come andare sulle montagne russa è bellissimo ma non ci vivrei per via della mia personalità però sono due aspetti a cui vorrei rinunciare ti senti mai un brand? allora un brand a volte sento che che ho creato un'etichetta che forse è la stessa cosa una levo forse non avevo volevo avere magari la posizione di decretare un valore economico sì è una cosa che a volte non mi piace di cui sono responsabile ma che è stata anche necessaria cioè la prima cosa è brand positioning quindi fai un'unica cosa non farne mille scegli un colore quando ho fatto l'offline e su un tv abbiamo registrato l'episodio zero poi mi ho mai dato in onda perché era una prova molto carina gli autori si trovarono molto bene con me e mi dissero se tu porti un colore porta qual colore se tu porti l'azzurro sia l'azzurro caso volle che quel giorno abbia una camicia azzurra anzi forse me l'ha detto per quello io sono quasi sempre vestito d'azzurro per la stessa ragione per cui nei cartoni giapponesi soprattutto quelli anni a tante i protagonisti erano sempre vestiti nello stesso modo pensavano più di me oggi e però la riconoscibilità è importante poi con il tempo puoi pensare anche di variati in questo senso l'etichetta ad esempio non so porn groove è stata necessaria di sicuro non la rinego perché chi viene nei concerti lo sa che quella dimensione anche proprio di fogliardia grassa c'è perché io mi diverto mi diverto è proprio liberatorio non è esaustiva e in questo senso ok l'etichetta per definizione sta stretta quindi questo aspetto magari non mi fa pazzire ma penso che con il tempo riuscirò a superarlo senti è toccato l'argomento all'offline e quindi io ti chiedo della televisione io mi sarei aspettato che tu saresti un giorno diventato un personaggio televisivo più forte invece mi sembra che a un certo punto te ne è fregato il cazzo di rimanere scusate il francese allora sì è un discorso abbastanza controverso sui principali intenti sono stato in realtà usando cose più o meno continuative o sporadiche tutte cose ad attacca date abbastanza bene secondo me dimmi poi dimmi tu cosa ne pensi veramente non cercare di compiacermi ok se io dovessi dire qual è la caratteristica più importante per stare in televisione la qualità ma intesa in senso neutro cioè non esprimendo la definizione è il parlare prima di pensare è una caratteristica che hanno moltissimi ma non tutti quella è fondamentale nel tempo televisivo anche radiofonico non è accettabile rispondere ad una domanda oh sì ho letto qualcosa però non sento di avere un'opinione solida riguardo o ancora peggio non lo so devo pensarci non sentiamo mai questa risposta nonostante sia unica sensabile 99 casi su 100 non è una risposta televisiva in particolare poi se entriamo nell'ambito reale che io negli anni sono stato approcciato praticamente da tutti con non so come dire maggiore o minore slancio dall'altra parte però da tutti i reali principali anche lì sono varie ragioni alcune totalmente legate proprio alle cose che mi fanno stare bene vengo considerato un discreto comunicatore però questo avviene se sono in pubblico perché sono concentrato e seguo un pensiero nella vita privata nel dialogo a due perché il dialogo avviene solo a due in tre persone siete già in pubblico intendo anzi anche incesticarmi perché ho mille pensieri che quindi mi rendono insicuro non ho questo modo di pormi e francamente non avrei voglia di venire visto in quel modo di essere costantemente e poi c'è anche una questione di legacy che io comunque voglio lasciare io setto un dovere nei confronti di quelle persone che mi ringraziano per averle ispirate anche se magari con una canzone sciocca e in termini di eredità non so un video di me di mutande che litigo con la moglie analfabeta di un calciatore per una banana non si inserisce bene no ok 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 senti l'ultima domanda te la faccio ringraziando posso in cui siamo perché sono in una libreria e non è stato così facile perché entrare nelle librerie nei tempi cioè hai avuto più di un problema a presentare gli altri non è una cosa che mi manda rispetto a mente ai matti lo so lo so che ti manda ai matti forse più a te che a me è vero è vero nel questa sembra quasi una barzelletta allora l'album precedente The Pink Album distribuito dalla Artist First che è chiedo scusa la mia etichetta con cui mi trovo benissimo ho distribuito un disco con un'etichetta più grande ma non mi sono trovato altrettanto bene proprio al punto di vista umano mi piacciono molto giustamente mi dissero allora devi però pensare ad un titolo che sia anche spendibile il titolo originale era The Pink Album ma poi ho scritto Disco Ditto chiamare un disco Disco Ditto soprattutto se faccio il vinile poi faccio a dire di no ho ricevuto la chiamata quindi poi pongo Disco Ditto però mi fanno guarda giustamente Rosamera eh sì bellissimo giustamente in veramente con il proprio massima con il massimo delle buone intenzioni l'etichetta c'è il distributore guarda potrebbe remarci contro nel momento in cui vogliamo una distribuzione grossa nel momento in cui vogliamo fare degli eventi in location istituzionali va bene titolo originario The Pink Album rappresenta anche meglio magari l'anima seria del disco quindi volentieri niente le catene però non l'hanno voluto le stesse qui adesso sono e che ora ringrazio tantissimo Bea per la fiducia dimostrata allora come così come provocazione abbiamo organizzato i film a coppie in una serie di sexy shop quindi ho rinunciato al titolo disco d'indo e fermavo i rischi tra i ditti guarda che io non ho il detto avvelenato vi spiego meglio recentemente sono stato ad esempio invitato al diversity media award non a ricevere un premio come sarebbe stato necessario ma consegnarlo no in realtà chi consegna il premio è la vera stare perché non sai neanche se lo prendi il premio mentre tu sai che lo consegni esatto è stata una bellissima esperienza e la stimo moltissimo tra l'altro la creatrice la direttrice so che la stima è reciproca negli anni precedenti c'era stato qualche timido tentativo di avermi ma c'era chi si era apposto perché si tratta comunque di un gruppo la cui finalità è quella di premiare la rappresentazione corretta della diversità e a volte sai si sente la necessità di essere ancora più corretti di chi si cerca di correggere e in questo senso si aveva paura e ma cosa fa ma cosa fa certo un pregiudizio come tutti i pregiudizi fondato sull'ignoranza ma questo è quando mi hanno chiesto di andare mi hanno proposto di tenere un discorso discorsino sono brevi due minuti mi è stato chiesto con un grande affetto la possibilità di leggere questo discorso io so che non è stato chiesto alla Cortellesi so che non è stato chiesto a a Saviano non so perché me l'hanno detto ma non so come fai se quella era mia nomina perché capivo la loro posizione e perché io la vedo così non aumentare le aspettative e superare le aspettative ok quindi anziché battere il punto sul tavolo e dire no io mi merito di più va bene spero di non deludarvi e tutta quell'energia mettila in quei due minuti di screen time assicurati che quei due minuti siano i migliori delle tre ore e così è stato ferma coppia grazie mille grazie a mano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.